Ciao, oggi sono qua per parlarvi di due esperienze di Escape Room casalinghe davvero particolari perché sono state realizzate con enigmi tutti tagliati al laser sul legno e precisamente vi parlerò di Quest Pyramid e Space Box della Escape Vault entrambe per 60 minuti ma di forma decisamente diversa l'una dall'altra Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute Iniziamo parlando della piramide, allora intanto questa facciata è quella che vi accoglie anche prima di togliere la scatola e vedete che ci sono queste levettine con le frecce con dei numeri quindi sicuramente c'è un lucchetto da sbloccare guardando un po' in giro possiamo scoprire che alcune sezioni della piramide si muovono ci sono delle freccine, ci sono dei pallini, c'è un qualcosa che si muove ma guardando più attentamente diciamo che sul fondo possiamo anche apprezzare il fatto che esistano in qualche modo delle indicazioni di risoluzione quindi avete un'idea di partenza, lo scopo è ovviamente aprire la piramide e riuscire a togliere questo pezzo superiore e vedere cosa c'è all'interno Vediamo invece la Space Box, allora intanto vedete che anche qua sul fronte c'è un qualcosa di si muovente ma che non esce completamente, ci sono dei numeri riportati anche qua c'è una parte che dovrebbe muoversi ma all'inizio non riuscite a farlo abbiamo altre parti che escono, un portale qua, una freccia qui guardando sotto ci sono delle lettere riportate su questo schema insomma anche qua tante parti che vi danno l'impressione di potersi muovere in qualche modo ma al momento non lo fanno, quindi lentamente ma inesorabilmente riuscirete a sbloccare il tutto e capire che cosa c'è all'interno di questa scatola direi che partiamo subito dagli enigmi, ce ne sono alcuni di tipo di logica quindi avete delle indicazioni su come decodificare, come impostare la chiave e se la impostate in maniera corretta immediatamente avete il feedback perché si sbloccano delle parti della scatola quindi accederete a un enigma successivo, un enigma diverso quindi saprete subito se avete risolto correttamente la cosa ce ne sono altri di tipo meccanico, quindi dovete spingere, tirare, studiare bene come sono fatte le cose perché messe in un certo modo, spinte o tirate senza mai usare la forza, senza mai utilizzare altri attrezzi riuscirete ad avere accesso a nuove cose che si trasformeranno alcuni bastoni possono diventare chiavi eccetera, non posso dirvi di più altri invece sono di destrezza, quindi avete una sorta di istruzioni da completare e dovete semplicemente riuscire a farlo all'interno di queste scatole parlando di come sono strutturate questi enigmi vi dico invece che quelli della piramide fanno tutti parti di un grosso disegno quindi è vero che in qualche modo ogni enigma vi sblocca un qualcosina dell'enigma dopo ma di fatto devono essere tutti risolti insieme per poter accedere all'enigma finale, per riuscire a sbloccare la piramide quindi come se costruiste un disegno intorno per risolvere un grosso enigma quelli invece del box sono di tipo conseguenziale quindi ne risolvete uno, accederete al prossimo che vi da il materiale per quello dopo e così via fino alla risoluzione completa parlando invece di complessità vi dico che vabbè i 60 minuti sono verosimili da questo punto di vista anche se ho trovato più semplice la piramide quindi se volete iniziare forse vi consiglio questa più che altro perché come avete visto sul fondo c'è una sorta di indicazione non è che vi dice tantissimo ma almeno vi fa mettere la testa in qualche modo vi dice su cosa agire, come ragionare sui vari enigmi fra di loro la box, forse anche perché è la prima che ho fatto vi mette invece di fronte a una scatola chiusa cioè sì nelle scatole ci sono delle indicazioni di trama mettiamolo così, di ambientazione non c'è una vera e propria trama però siete in balia degli eventi nel senso avete questa scatola tirate, spingete cosa devo fare? qual è il primo da risolvere? quindi mentre la piramide vi dà in qualche modo un aiuto almeno per ragionare la box vi lascia proprio in panne se siete comunque messi male potete accedere tramite QR code a una pagina per ciascuna delle scatole che vi dà degli indizi dei suggerimenti di risoluzione nel caso vi dà una procedura risolutiva se proprio volete andare avanti e infine c'è un vero e proprio filmato dimostrativo che vi spiega come sbloccare quel pezzo di scatola canto nostro vi dico che abbiamo dovuto utilizzare queste soluzioni solamente in due casi in un caso per essere proprio sicuri tutti i pezzi sono tagliati al laser quindi sono precisi al millimetro e funzionano benissimo si rincastrano perfettamente ma proprio per questo dovete anche essere precisissimi nel regolare le vettine tirare indietro le cose eccetera quindi piuttosto che forzare volevamo essere sicuri della soluzione e quindi una volta certi abbiamo potuto procedere alla risoluzione e quindi muoverci lentamente proprio per questa precisione millimetrica in un altro caso invece avevamo i materiali ma non ci è proprio venuto in mente come fare anche con l'indizio insomma ci siamo guardati allo specchio e non... niente non avremmo mai utilizzato in quel modo l'oggetto o perlomeno anche se l'avessimo usato avremmo dovuto guardarlo in un certo modo ecco non ci è proprio venuto in mente flash veloce magari ve lo state chiedendo una volta risolta la scatola ovviamente non c'è più modo di rigiocarla quindi perché conoscete tutte le soluzioni ma potete rimettere tutto a posto a ritroso in modo tale da farla risolvere a qualcun altro per quanto riguarda la scalabilità vi dico di non eccedere forse le 2-3 persone massimo perché fisicamente bisogna mettere le mani su questi pezzi quindi non è tanto questione di guardare è proprio questione di maneggiarli muoverli, girarli osservare, tirare, spingere e quindi già due persone devono un po' fare i turni in tre è difficile cominciare ad avere le mani credo che in quattro sia proprio un po' superiore alla capacità dell'oggetto stesso concludo dicendovi quindi che sono sicuramente dei progetti interessanti dal punto di vista dell'ingegnerizzazione sono affascinanti perché funzionano tutti in maniera perfetta e dal punto di vista delle soluzioni degli enigmi dovete comunque mettervi sotto bene contate che sono 60 minuti ma stiamo parlando di circa 6-7 enigmi per ciascuna scatola quindi sono enigmi comunque da farvi riflettere da farvi ragionare non dovete perdervi d'animo non mi resta che invitarvi a una prova e salutarvi con un ciao e alla prossima come sempre grazie per essere arrivati fino a qua e lasciatemi il vostro commento per sapere come è andato il video e se vi intriga questo tipo di materiale non dimenticate di iscrivervi a tutti i miei canali social per non perdervi niente di recensioni minute e se poi vi capita anche di volermi supportare e perché no avete tre metodi qua in descrizione per farlo e avere dei vantaggi anche lato vostro grazie sempre ciao ne